Una certezza, il comunale di Luvo di Puglia porta bene alla Vigor Trani in due incontri disputati sul manto erboso del Fausto Coppi ha ottenuto due successi. L'ultimo domenica scorsa contro la suddestra Locorotondo battuta con il punteggio di 2 a 0 grazie alle reti di Fumai al 59esimo e di Infimo all'89esimo. Grande entusiasmo nel sodalizio tranese con il presidente Luciano Savi che davvero può essere soddisfatto per come la squadra sta migliorando la propria posizione in classifica come in occasione della partita contro il Molfetta domenica è stato ancora il ristorante Caravan Serraglio a ospitare a pranzo la squadra e visti i risultati la società tranese afferma che l'ingegner Tricarico e l'ottimo chef Luca Cappelluti portano bene come il comunale di Luvo di Puglia.